Mio padre in una giornata come questa è sicuramente un piacere, a distanza di 14 anni fa ancora piacere che la gente lo ricordino in questa maniera, con queste belle giornate di calcio e quindi di sport, e soprattutto per quello che il Presidente ha fatto per questo torneo, per quello che sta facendo e per quello che farà. Grazie. Grazie.